Con Alberoni salutiamo un uomo che ha reso onore all'Italia e che, come hanno testimoniato le tante persone che hanno voluto rendergli un ultimo saluto in occasione dei suoi funerali a Milano, ha lasciato dietro di sé un'importante traccia di affetto insieme a un'eredità di idee e di valori che, sono certo, continuerà a ispirare anche le future generazioni. Concludo rinnovando il mio affetto, il mio cordoglio e la mia vicinanza, sono qui presenti e li ringrazio di essere venuti numerosi, a tutti i parenti, ma in particolare ai figli Francesca, Paolo, Margherita e Giulio, e ai loro familiari, a tutti i parenti, ripeto, del professor Francesco Alberoni, che sono qui presenti in tribuna. E con questo ringraziamento invito l'Aula a qualche istante di silenzio in sua memoria. Grazie.